Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per lavori è chiuso il tratto tra il Vivio per la variante di Valico e Aglio. Sulla A11 in direzione Firenze per traffico intenso code tra Prato Ovest e il Vivio per la 1. Sulla tangenziale Ovest di Siena per lavori ci sono rallentamenti in entrambe le direzioni tra Siena Nord e Siena Acqua Calda. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in Pruneta. A causa dei danni del maltempo sono ancora chiuse la statale 2 Cassia a San Quirico d'Orcia, la statale 12 della Betone del Brennero a Borgo a Mozzano e la statale 62 della Cisa a Pontremoli. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!